Siamo con Riccardo Cristello, un nome molto noto in queste ultime ore. Si tratta infatti del dipendente dell'operaio di Arcelor Mittal, licenziato per aver condiviso un post in cui si parlava della fiction di Canale 5, Svegliati amore mio. Un episodio davvero grave che la dice molto lunga sulla dittatura che regna all'interno di quella fabbrica della morte, perché così va definita fabbrica della morte e mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. Allora Riccardo, intanto la mia solidarietà umana, di persona e poi di giornalista. Ci sono passato da un licenziamento sempre per la vicenda Irma e so cosa significa, per questo ti sono, per quello che può contare, umanamente vicino. Raccontiamo un po' questa vicenda, come è nata, ho saputo che il giorno delle palme ti è arrivata la prima sorpresa e poi siamo arrivati all'epilogo. Tutto è nato da un post pubblicato sul nostro profilo Facebook. Ti fermo un attimo, lo leggo, così ci capiamo meglio. Riccardo Cri, nel suo profilo Facebook, che è appunto Riccardo Cristella, scrive. Giorno 24 di questo mese, mercoledì, andrà in onda la fiction Svegliati amore mio. Si basa su una storia vera e tratta di una bambina o bambino che entra in coma profondo. Gli esami diranno che il bimbo o la bimba ha una forte presenza di piombo nel cervello. Nelle innumerevoli interviste fatte alla Ferilli, principale protagonista, agli altri attori e ai registi Ricchi Tognazzi e consorte, non emerge mai che la storia vera accade a Taranto e che la fantomatica acciaieria Ghissal altro non è che lo stabilimento siderurgico di Taranto. Non mi meraviglio che interessi forti si siano mossi per occultare l'ennesima tragedia che colpisce i bambini della nostra città. Ripeto, non mi meraviglio, ma lo trovo vergognoso. Chiedo a voi, lo chiedo a noi, inviate questo messaggio a chiunque di vostra conoscenza, parenti, amici, amici degli amici, affinché la storia di questo bambino o bambina non rimanga coperta. In nome del profitto la vita dei bambini tarantini non conta a Sassini. Condivido in pieno questo post. Peraltro non c'è nessun riferimento diretto ad Arcelor Mittal, quindi se qualcuno ha la coda di paglia è un problema suo. Ma ricostruiamo quindi questa dinamica degli eventi. La dinamica parte dal 24 sera, quando io e mia moglie eravamo sul divano, mi è arrivato questo post su un gruppo WhatsApp di cugini da parte di una mia cugina che vive a Firenze. Lei mi gira questo post, io lo leggo così in maniera sommaria, veloce, però non ci vedo nulla di male a pubblicizzare una fiction, i problemi di Taranto li conosciamo, non è che non li conosciamo e quindi in automatico con mia moglie abbiamo preso e l'abbiamo copia e incolla sulla bacchica Facebook. Finito lì, chiuso così, giusto per divulgare, per dire che vedete un po' di sensibilizzazione non fa mai male. E lì poi l'epilogo. Il giorno dopo sono andato a lavoro, non è successo nulla, poi il fine settimana io non lavoro, sono a casa, perché sono un normalista. La domenica sera, che era la domenica delle Palme, a sorelle 19, 19 e 30, mi chiama uno dei miei responsabili e mi dice che per problemi di numeri devi farti una settimana di cassa integrazione a casa. Lì per lì non ci ho dato peso alla cosa perché comunque il periodo è quello che è, un po' tutti... Tanta cassa integrazione uno non immagina. Io ho fatto quest'estate, facevo tre settimane a casa, una a lavoro, quindi voglio dire è a periodi, ora servi di più, ora servi meno, quindi non ci ho dato peso, anzi perché a differenza di altri magari sono stato avvisato preventivamente, quindi ho detto va bene, che ti devo dire, mi faccio questa settimana a casa. Detto ciò, il mercoledì mi arriva la prima raccomandata con il provvedimento disciplinare dove mi diceva che ero sospeso dalla mia attività lavorativa ed ero inibito a recarmi sul posto di lavoro per quel post che tu hai letto messo sulla pagina Facebook e avevo tempo cinque giorni per dare le mie giustificazioni con Pec. In famiglia c'è stato il giro, l'ho aperta con mia moglie a casa perché lì stava a casa con me, non so descrivere qualcosa di inimmaginabile. Per me non dico il mondo addosso, purtroppo non so come descriverti il momento, quindi la prima cosa che ho fatto è che ho chiamato i miei responsabili, sia quello che mi segue in amministrazione sia quello che mi segue in acciaieria chiedendo ma sapete nulla cosa è successo, cosa devo fare, come mi devo comportare. Il provvedimento a firma di chi era? Ed è responsabile delle risorse umane il dottor Arturo Ferrucci. Dottor Arturo Ferrucci, io ho parlato con lei al telefono proprio lunedì di Pasquetta quando c'è stato l'incidente in colata continua di acciaieria 2 e lui in maniera molto seccata, molto infastidito, ha risposto non ho niente da dire, non mi importuni. Penso che Arcelor Mittali invece abbia importunato in termini di morti e di tumori Taranto, caro dottor Ferrucci, ma ne parleremo a breve. Riprendiamo, quindi possiamo procedere? Ho contattato questi responsabili che mi hanno liquidato dicendo no, non so, forse è meglio che vai da un avvocato, anche perché devi rispondere in maniera ufficiale. Formale, formale. Ma cosa posso fare, cosa posso dire? Io qua non ne so niente, non ho fatto nulla, ho fatto un copia in colla di questo. Ma al di là del... Cioè, tu hai parlato in questo post del diritto alla vita dei bambini. Dottor Ferrucci, ma cos'è l'esabaestà? È un peccato parlare del diritto alla vita, di difendere i bambini? O è normale che i bambini a Taranto muoiano? Mi risponda, dottor Ferrucci, io voglio un'intervista con lei. Civile, democratica, nessuno la mangia. È un reato parlare di bambini? È una causa di licenziamento parlare di una situazione vergognosa che accade in quella fabbrica? O questa fabbrica produce vita e gioia. Procediamo. Eh, dicevamo, quindi, visto così, abbandonato da tutti, mi sono rivolto al collega amico che fa parte del sindacato, chiedendo a lui come mi dovevo muovere, perché non sapevo, ero... Cioè, proprio alla sprovvista. Sprovvista, non sapevo. Eh, il collega, nonché amico, da tanti anni mi ha detto, no, vieni subito qua che ne parliamo, vediamo come fare. Andiamo dall'avvocato del sindacato, da vediamo cosa ci consiglia di fare e come rispondere per... Eh, così è stato. Quindi, il giovedì mi sono recato presso lo studio dell'avvocato Soggia, che all'altro Mario Soggia, a Mario Soggia mi lega un rapporto di amicizia e di affetto, perché siamo stati cinque anni compagni di liceo. Abbiamo fatto il liceo classico Archita insieme, quindi saluto Mario con affetto. Essendo un principe del foro, innanzitutto saprà certamente far valere le tue ragioni, ma al di là delle grandi capacità di Mario, c'è un fatto, che questo post, caro dottor Ferrucci, glielo posso dire io da laureato in giurisprudenza con 110 e lode, vi posso dire che non è assolutamente causa di licenziamento. Non facciamo ridere, per cortesia. Ridere è far piangere la gente. L'avvocato si è messo a ridere quando ha letto il posto, quindi ha dato una giustificazione consona a quello che loro chiedevano, aditavano, chiedendo l'annullamento del provvedimento, perché comunque non c'era nessun riferimento a loro, non era mia intenzione ledere nessuno, offendere nessuno. Hai parlato di un diritto alla vita, non dimentichiamo la causa dei bambini. Io già per di mio sono una persona che non è offensiva, non ho mai avuto screzzi con nessuno e problematiche con nessuno. Figuriamoci se uso uno strumento come Facebook, che poi non uso, però quella sera l'ho usato. Il destino. Il destino. Per offendere qualcuno o ledere qualcuno. Io sono una persona a cui piace parlare direttamente. Quindi, Riccardo, è arrivato poi, dicevamo, il provvedimento di licenziamento. Ieri, ma ieri a mezzogiorno è arrivato poi, insomma, queste scuse non sono servite a nulla, non sono abbastate a nulla. Nessuno mi ha... Scusa, era un chiarimento quello che hai fatto. Esatto, era un chiarimento, questo chiarimento non sono serviti a nulla, ho detto scusa perché stavo pensando al collega. Ecco, c'è stato questo lato. Il collega, che è stato licenziato, ha chiesto scusa. Per carità, ognuno fa quello che crede, però sinceramente lui dice, io non mi devo scusare di nulla perché ho parlato solo del diritto alla vita dei bambini. Se poi qualcuno si sente prudere è un altro problema, ma io ho parlato soltanto di diritto alla vita. Esatto, io ho semplicemente postato un post dove si sensibilizzava alla visione della fiction e si parla del problema che abbiamo a Taranto. Allora, non ci vedevo nulla di male. Dottor Ferrucci, lei ha parlato di lesione, di immagine che è stata lesa di ArcelorMittal, ma lei non pensa che ArcelorMittal, a causa delle fonti inquinanti, ha prodotto non danni all'immagine, ma danni alla vita dei tarantini? Lei non pensa, dottor Ferrucci, che tanti bambini rischiano a causa delle emissioni del mostro? Lei non pensa, dottor Ferrucci, che tanti operai rischiano la vita all'interno di quello stabilimento? Che è un catorcio che sta letteralmente crollando a pezzi, perché la manutenzione è assolutamente insufficiente? Sta crollando a pezzi e ci sono dei rischi per gli operai, rischi di vita. Basti considerare quello che è accaduto lunedì scorso, quando appunto c'è stata un'esplosione e divampato un incendio in colata continua 2 di Acciaieria 2. Queste cose vanno tutto bene? Il problema qual è? Un operaio che dice difendiamo il diritto alla vita dei tarantini, dei bambini? Per cortesia, dottor Ferrucci, pensiamo alle cose serie. Quindi, dicevo, Riccardo, questo fulmine a ciel sereno, questa bomba vera e propria. Tu sei sposato, hai dei figli? Ho sposato due figlie, una di 11 anni e una di 7 che ne compierà la domenica, ho un mutuo come tanti di noi e fino alla settimana scorsa era una vita tutto sommato bella, la famiglia bella, la moglie fantastica. Se ti può consolare sono queste le cose belle della vita, anche perché tu ritornerai con tutti gli onori sul tuo posto di lavoro, sicuramente. Però immagino la prensione che c'è stata in famiglia, perché chiaramente è un licenziamento oggi in un momento in cui il lavoro è prezioso come l'acqua nel deserto, non è un bel dire. Esatto, esatto. La prensione è quella, il pensiero va sempre alla famiglia, al futuro, a quello che adesso ne verrà, al periodo che dovrà transitare fino a quando magari mi riassumeranno e mi riintegreranno nell'organico dell'azienda per potermi guadagnare quello che io ho sempre fatto, dovuto, però nel mentre a casa non si sta tranquilli, la notte non si dorme, il pensiero è lì. Io non ti dico che già il mercoledì che ebbi il provvedimento disciplinare ho passato due giorni male a casa, tanto che non ho detto nulla a nessuno, è rimasta una cosa fra me, mia moglie, amici, parenti, genitori, non abbiamo detto niente. Ora che è successo quello che è successo, è quello che sta succedendo, sono andato tipo stamattina mi sono recato da mia madre che fino a Avantieri è allettata per problemi suoi e sono dovuto andare a dirlo, quello che mi sta succedendo. Immagino dolore su dolore, sofferenza su sofferenza. Sofferenza su sofferenza perché giustamente si sa quando viene a mancare il lavoro all'interno di una famiglia o comunque un reddito. Riccardo tu hai fatto una scelta di coscienza perché è bello pensare e vedere che un operaio dell'ILVA non ha pensato soltanto a dire difendo il mio orticello, difendo il mio posto di lavoro, ma ha detto dobbiamo difendere la vita dei tarantini, la vita dei bambini è quello che io dico sempre, perché non si deve creare a Taranto una contrapposizione tra dipendenti, tra operai e il resto della città o gli ambientalisti, no, ci deve essere una battaglia comune di tutti perché siamo tutti tarantini e vogliamo avere il diritto alla vita. Quindi questo è il primo punto. I dipendenti di Arcelor Mittal, di ILVA e Naes sono tarantini, la maggior parte, e sono amici dei tarantini e quindi noi vogliamo difendere il diritto alla vita dei tarantini, vogliamo difendere il loro diritto alla vita, anche di lavorare in condizioni normali, non in condizioni a rischio. Forse hai avvertito un senso di solitudine, l'ho provato anch'io quando fui licenziato da Bluestar, sempre per le vicende ILVA, solo che qualche deputato è sparito dalla scena politica, non c'è più, è evaporato come il famoso vapore aquero, per lui erano i fumi questo vapore aquero. E poi io sono andato avanti e sono libero, libero di intervistare un galantuomo come è l'amico Riccardo Cristello. Avrei avvertito un senso di solitudine. Sì, mi sento vuoto, svuotato dall'interno, a livello psichico e fisico, dico la verità. Anche perché si sa che il lavoro nobilita l'uomo, quindi un uomo senza lavoro, veramente della mia età, non sa magari come puoi affrontare il futuro, non vede un orizzonte limpido, diciamo. Quindi questa condizione adesso mi sta creando veramente, non dico problemi, ma ringrazio mia moglie che mi sta vicino e mi sta incoraggiando ogni giorno, mi sta dando fiducia, coraggio. Dice stai tranquillo, non ti preoccupare che le cose le affronteremo insieme, così com'è. Riccardo, hai avuto tanta solidarietà di tanta gente, hai avuto anche la solidarietà e l'appoggio dell'USB di Francesco Rizzo, che anche all'epoca del mio licenziamento mi diedero la massima disponibilità. Sì, sono gli unici che mi hanno dato subito solidarietà, perché io non ti dico che non sono iscritto al sindacato, non sono iscritto a nessun sindacato, non lo sono mai stato, non è che venivo ritenuto un aziendalista, un tecnico, un impiegato, non iscritto al sindacato, tu sei dell'azienda, volte e volte mi hanno anche recriminato queste cose. Ho fatto telefonate quando, oltre ai vari responsabili, ho chiamato qualcuno di altre confederazioni per chiedere come comportarmi, ma sì, non ti preoccupare, se hai bisogno, vediamo, però alla fine gli unici che veramente mi stanno supportando in tutto e per tutto sono loro. Si avverte anche la solitudine perché le istituzioni scompaiono, perché le istituzioni non vogliono evidentemente andare in conflitto con un colosso come Arcelor Mittal, vi sono state solo poche così, pochi interventi da parte di soggetti politici ed istituzionali, ma ci saremmo aspettati per esempio una presa di posizione durissima da parte dei parlamentari ionici, da parte del governo, dei ministri, perché vedete quando si parla di transizione ecologica, di diritti dei lavoratori, non devono essere solo belle parole, ma devono essere come dire così, contestualizzate alla realtà di ogni giorno e la realtà di ogni giorno dice che c'è un lavoratore a cui viene impedito di lavorare per aver parlato in piena libertà. Sì, io spero e confido ancora nell'aiuto e nel fatto che qualcuno si faccia sentire nei miei confronti appoggiandomi e dandomi ragione, oltre eventualmente a se dovrò fare ricorso per la riassunzione, spero di non arrivare a quel livello, però nel frattempo spero che qualcuno si interponga e si faccia da pacere, da garante dei diritti e da pacere in questa situazione, situazione che di certo non ho voluto io. Certo, perché ci vuole un intervento diretto da parte del governo, quel governo che tanto parla su Taranto e poi non può abbandonare il lavoratore che viene vessato, ma ripeto qui non è una questione soltanto di Riccardo Cristello, è proprio la figura del lavoratore, la dignità del lavoratore che può essere oggi Cristello e domani mattina Luigi Abbate o Pinco Pallino, questo è il dramma e soprattutto l'atteggiamento di Arcelor Mittal mi sembra un qualcosa che sia ispirato a una logica molto brutta, quella di punirne uno per educarne 100, quindi creare una strategia del terrore per cui dice guarda a questo è successo questo per chi ha parlato, attenzione perché il primo che sgarra paga e Cristello ne è l'esempio vivente. Sì purtroppo sembra così, sembra come dici tu, io mi auguro di no per la tutela dei colleghi, così come sono contento della riassunzione del collega che aveva avuto lo stesso provvedimento disciplinare, per carità, non ho mai augurato a nessuno e non lo auguro a nessuno quello che sta accadendo oggi a me, perché veramente è un'accusa devastante, fosse stata una mia colpa probabilmente ne avrei preso atto, coscienza, dico ho sbagliato. Non hai sbagliato, cosa dovevi ammettere? Dico ho sbagliato e allora è giusto quello che... Giusto pagare, chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga, ma se uno... Posso dire, quella di poter guardare negli occhi tua moglie, i tuoi figli, non è una cosa da poco. Sì, ho questo privilegio, la coerenza di quello che ho fatto, che abbiamo fatto, solo che qualcuno si è offeso per un'accusa che non era indirizzata a loro, sinceramente. Però si sono fatti mea colpa da soli, da quel che sembra. Mi dispiace, però il mio senso non era quello in quello che ho fatto. Hai solamente parlato di un diritto alla vita. Un diritto alla vita, ho sensibilizzato, ho semplicemente sensibilizzato tutti a vedere questa fiction, che se qualcun altro magari ha visto, perché io l'ho vista, l'ho guardata, è una fiction che il regista Tognanzi, non so se lei l'ha visto. Lovacchi, abbiamo anche avuto un confronto in videoconferenza. Nel finale, ha fatto un bel finale, diciamo. Unire. Unire, quello che noi chiediamo da tanti anni, il lavoro, la salute e l'ambientalizzazione. Infatti l'ultima proprietà che lui mette, l'ultima dirigenza che mette nel film è quella che si assume l'onere di far lavorare le persone in un ambiente sano, coprendo e anche per proteggere la città che era così limitrofe, analoga a quello che è il nostro territorio. Certo, è una storia difficile, è una storia vera e sapete qual è la mia posizione sull'Ilva? La conoscete tutti, ma quando sento queste storie mi sento ancora più carico per lottare. Siamo in tempo di pandemia, ma voglio stringerti la mano, perché lo meriti, perché Taranto deve ripartire da persone come lui, come Riccardo, che hanno messo a repentaglio la propria vita lavorativa in nome di un qualcosa. Io sono convinto, Riccardo, che tanti bambini dall'assù dal cielo che sono andati via, sono passati a miglior vita per le note cause ambientali, sicuramente avranno un pensiero e un occhio di riguardo per te, in bocca al lupo per tutto. Viva la libertà, viva la giustizia, viva la libertà di espressione. Un licenziamento non può tappare la bocca a nessuno. Un licenziamento non può tappare la bocca a nessuno. Un licenziamento non può tappare la bocca a nessuno.